Io non lavoro nuda, io non faccio i miei clienti per strada davanti alla gente, io porto i miei clienti privatamente in casa mia. Allora questa ordinanza non ha un senso logico legalmente. Esplode la rabbia nelle vie del sesso dove tra qualche giorno entrerà in vigore un'ordinanza sindacale, ora al vaglio del prefetto, che vieterà, previa multa, di fermarsi a fare contrattazioni con donne e i trans della zona. Io sono maggiorenne, le persone che vengono con me sono delle persone maggiorenni, mi si avvicinano, io parlo a loro, se mi dicono sì mi consentono il permesso di salire nella loro macchina e io li porto a casa mia, dentro casa mia sono fatti miei quello che faccio. Via Orsini Duca, via Vecchia Carmiano, via De Jacobis, quelle maggiormente frequentate e dove la sera è facile incontrare ogni tipo di adescamento come questo. protagonista una ragazzina sudamericana, poco più di una bambina. Cerchi di fermare qualcuno così? Un'ordinanza per mettere fine ad un fenomeno intollerabile per i tanti residenti della zona, ad aver chiesto più volte un intervento per ridare decoro al quartiere. Tra l'altro noi ci mettiamo non qui dove ci troviamo adesso, noi ci mettiamo sulla via Vecchia Carmiano, dove non ci sono abitazioni, quindi non diamo fastidio alla gente. Tra l'altro noi ci mettiamo non ci sono abitazioni, quindi non ci sono abitazioni, quindi non ci sono abitazioni,